Non arrivano i tanto attesi tre punti per archiviare definitivamente il discorso salvezza, ma il noi cattaro di Buccolieri si accontenta di un punto che male non fa. L'intera posta in palio di certo avrebbe fatto più comodo al Gallipoli, che dopo un buon primo tempo rischia di capitolare nella ripresa. Buccolieri ritrova pazienza al centro della difesa, con Difino che scala sulla corsia sinistra. Parte dal primo minuto acqua viva nel rombo composto da Tenzone, Guglielmi e Fieroni. Nel Gallipoli del tecnico Alberto Villa, ex attaccante di razza, Cornacchia e Greco compongono la coppia centrale difensiva con Sansò e Fasiello a centrocampo. Carrozza agisce in attacco con Legari e Iurato, arbitra leone di Barletta. Al quinto, prima grossa occasione per Fasiello, ben smarcato da Franco. Il centrocampista però spreca malamente da ottima posizione. Il Gallipoli si dimostra maggiormente manovriero. Al decimo ci prova Carrozza, ma la conclusione è strozzata. I padroni di casa si affacciano dalle parti di Passaseo al quattordicesimo, con l'inzuccata imprecisa di pazienza sugli sviluppi di un angolo. Al diciassettesimo ancora Gallipoli pericoloso dalle parti di Sansonna. Legari calcia dalla distanza, Sansò a domestica in area di rigore, ma il tiro è debole. Buccolieri prova a scuotere i suoi alla mezz'ora. Fieroni decide di fare tutto da solo, ma la conclusione sorvola la traversa. La conclusione della prima frazione è a tinte giallorosse. Prima ci prova Legari con una conclusione velleitaria dalla distanza. Poi lo stesso fantasista chiama in causa Sansonna, direttamente su punizione, ma il numero uno di casa è attento e blocca a terra. Nella ripresa, pronti via, Schirone sfiora il vantaggio con un preciso colpo di testa che lambisce il palo. Il Gallipoli arretra, il Necattaro esce dal torpore. Al quarto, Fieroni esalta i riflessi di Passaseo, che da pochissimi passi devia quasi miracolosamente. Lo stesso attaccante di casa ci riprova qualche minuto dopo su schema di punizione, ma la botta è respinta dal numero uno Salentino. La chance per sbloccare giunge al minuto 14. Angolo velenoso di Tenzone, Schirone controlla, ma Greco salva sulla linea di porta. Il tentativo disperato in spaccata di Fieroni, però, è fuori dallo specchio. Il match cala di intensità. Il Gallipoli tuttavia tenta il colpo ad effetto al 27esimo, ma Sansonna compie il miracolo sulla traiettoria insidiosa di Carrozza. Dopo due minuti di recupero, Leona manda tutti sotto la doccia. Il Necattaro può sostanzialmente dormire sogni tranquilli. Per il Gallipoli, le ultime due di campionato rappresentano quasi due finali per evitare la lotteria dei play-out.